Ricordo molti anni fa quando da bambino aiutavo mio padre a lavare la sua macchina dopo i 100 o 150 chilometri utili per andare al mare inevitabilmente la parte anteriore della macchina in paraprezza e sotto era piena di moscerini ed altri insetti, piena, spiaccicati, morti, un vero schifo successivamente quando acquistai la mia prima macchina, la mitica Renault 4 avevo 18 anni e anche in quelle occasioni quando andavo in autostrada inevitabilmente il parabrezza e la parte anteriore della macchina era piena di insetti, moscerini ed altri insetti, farfalle, spiaccicati poi con l'andare degli anni ho notato che non ci sono più gli insetti spiaccicati zero, hanno forse fatto delle vernici insetto repellente no, non è così, purtroppo la risposta è molto più triste stanno sparendo gli insetti e anche quando l'ultimo impollinatore sarà estinto si estinguerà inevitabilmente tutta la vita sul pianeta Terra la prossima volta che vedi un insetto ti consiglio di non ucciderlo anzi, digli grazie grazie